salve e benvenuti in donno bikes channel oggi vi parleremo di una piccola iniziativa riguardante la festa della donna regaleremo a tutti coloro che acquistano una nostra bici da qui all'otto marzo il nostro salva smartphone in pratico e utilissimo gadget che ci permetterà di poter alloggiare il nostro telefono sul manubrio senza nessun tipo di problema ci auguriamo che la nostra idea possa essere ben accolta da tutte voi un saluto e buona festa delle donne ciao